Buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri occhi. Buongiorno. Salve. Salve. Siamo tornati. Siamo tornati, ricevuto io con i nostri occhi, con le chiacchierate informali della nuova maniera ormai solide e questa volta però siamo ritornati in realtà sull'argomento del video precedente, dell'incontro precedente, ovvero lo spostante tema dell'agguito atto, visto che tutti ne parlano. Infatti sono di nuovo con noi il professor Gabriele Perretta e gli artisti di Catello Graninello, Inaste Catello, e sono caricati Inaste Perlentino e lo facciamo appunto perché come avevamo detto precedentemente l'argomento è estremamente vasto e soprattutto ha suscitato molto interesse e quindi è necessario indagarlo approfonditamente. La volta precedente infatti abbiamo provato ad attentrarci all'interno di quello che è l'architto atto, delineando nei tratti, le dinamiche e soprattutto cercare di capire il campo d'azione di quest'arte, questa community, questa vastissima community di cui ci hanno parlato di altri sistemi, una community che a quanto pare opera parallela già da parecchio tempo, un po' parallela a questo sistema dell'arte che è già codificato e questa community cerca, sta tentando di scardinare certi muri e di entrare all'interno in maniera completamente diversa nel sistema. Abbiamo fatto una piccolissima introduzione, la volta precedente, con gli artisti napoletani della community, questa volta però vogliamo cercare di capirla meglio. Proprio per capirla meglio abbiamo chiesto giustamente agli nostri affitti ospiti di provare a trasmettere il loro pensiero, il loro operato anche attraverso le operative, quindi provare a mostrarsi quello che fanno giornalmente, come lo fanno, perché lo fanno, soprattutto, però lo possiamo capire solo ed effettivamente attraverso i nostri ospiti. Assolutamente sì, però prima di vedere le opere, siamo molto curiosi di vedere le opere dei nostri ospiti, dei nostri artisti, vorrei fare una domanda a Professor Perretta, una domanda un po' più tecnica, perché tra i feedback che abbiamo ricevuto la volta scorsa c'è anche chi ci ha chiesto, sì, ma che cos'è un'opera d'arte digitale? Magari ci sono delle persone che non fanno parte del nostro mondo, che ascoltano i nostri incontri, le nostre chiacchierate appunto informali e quindi alcune persone si sono chieste la genesi del discorso, cioè che cos'è un'opera d'arte digitale? Quindi io chiederei a Professor Perretta, chiederei a te Gabriele brevemente di introducirci un po' la materia e poi passiamo insomma alle opere dei nostri artisti e discutiamo con loro dei loro lavori. Ok, bene, io accolgo subito questa indicazione e cerco di in qualche modo di essere anche molto breve, sintetico per quanto riguarda la definizione di arte digitale e soprattutto con un'anticipazione, hanno ragione questi qui a lamentarsi, soprattutto in Italia, quindi escludendo la cultura del web per quanto riguarda l'informazione sull'arte digitale, perché la questione dell'arte digitale in Italia insomma è stata approfondita sin dall'inizio, però anche sul web, anche sul web ma soprattutto sul cartaceo esiste poco materiale storico per informarsi, no? E le informazioni praticamente sono un po' deviate devo dire, come usanza dell'Italia insomma nel fare storia. Quindi da questo punto di vista è molto difficile, no? È molto difficile rendersi conto di che cos'è l'arte digitale. Chiaramente insomma è qualcosa che parte da molto lontano e parte dalla dalla scoperta del segnale stesso digitale, quindi insomma degli anni sessanta ha avuto varie praticamente conformazioni, diciamo così, e così come abbiamo accennato l'altra volta praticamente i campi del digitale sono diversi, sono estremamente diversi fra di loro, cioè per esempio possiamo parlare da una parte di arte digitale, quando parliamo di arte digitale possiamo intendere arte generativa per esempio, no? Che significa una cosa all'interno del discorso per esempio di casi storici come Breianino, no? Oppure parliamo di arte digitale se parliamo nel campo delle arti visuali della risoluzione nella composizione dell'immagine, no? E quindi il passaggio anche nel cinema e nel videoclip, dall'analogico al cosiddetto digitale. Oppure parliamo praticamente addirittura specificamente nel caso di computer art parliamo di hashie art, no? E quella è arte digitale altrettanto, ma è un aspetto, è un altro aspetto ancora, così come possiamo parlare di arte digitale se parliamo di deviazione dell'uso del segnale digitale rispetto ad alcune composizioni, ad alcune costruzioni praticamente elettroniche e quindi in questo caso la chiamiamo deviante, arte deviante addirittura. Possiamo parlare praticamente del gioco dell'ingrandimento del pixel e quindi di pixel art, no? E quindi ci avviciniamo anche un attimo alla crypto art e quindi in questo caso. Così come parliamo per esempio storicamente della disputa fra medialismo e immagine mediale e pittura digitale per esempio, no? Che sarebbe soltanto l'utilizzazione storica di alcune applicazioni, di alcuni programmi che trasformano l'immagine fotografica e la rendono pittorica e quella praticamente è stata grossolanamente definita pittura digitale, insomma non è quello il discorso, anche lì c'è da fare un discorso molto più ampio. E poi andiamo nel campo praticamente della video arte che è quel settore o quell'ambito, quel campo che si estende tantissimo perché nel suo interno c'ha sia diciamo le installazioni multimediali con l'uso praticamente dei monitor che vanno dal monocanale tradizionale fino ad arrivare al multicanale, no? Più attuale e poi in effetti invece praticamente la video arte intesa nel senso di registrazione di alcuni fenomeni performatici, no? Che vengono, quindi la video arte viene usata come documentazione insieme dall'altra parte poi al videoclip, fino al videoclip musicale, no? Che devo dire insomma io sono di parte perché è quello che mi piace di più insomma, è quello che ho frequentato di più storicamente ed è quello che rappresenta il senso totale, ma lì andiamo verso una produzione quasi generalista. E quasi cinematografica. Esatto. Cioè dove abbiamo praticamente non solo macchine ma abbiamo tecnici che lavorano nel comparto della pubblicità, nei comparti praticamente degli spot televisivi e via di seguito. Quindi insomma, quindi io direi è questo trasversalmente, no? E quindi in questa complessità va insomma richiede degli approfondimenti enormi insomma. Assolutamente, insomma giusto per fare appunto come dicevi tu una sorta di quadro generale e trasversale. Certo. Allora, i nostri Catello e Sigiu Bellettini, da dove vogliamo iniziare? Come vogliamo impostare la presentazione dei vostri lavori? Perché insomma ci interessa proprio approfondire voi. La volta scorsa abbiamo parlato di Beepul, adesso abbiamo due artisti insomma in carne ed ossa davanti a noi e quindi vogliamo parlare della loro arte. Vai Francesco, vai. Vai Catello, inizia tu. Inizio io. Posso condividere lo schermo? Sì, scusa. L'organizzatore ha disabilitato la condivisione dello schermo partecipante. Appena mi sono concessi i permessi. Ok, intanto comincia a parlarci insomma del tuo, da dove sei partito? Come ti sei trovato in questa community di cui ci parlavate la volta scorsa? Beh, più su poco sia nato tutto in maniera abbastanza naturale ed organica. Penso valga lo stesso pure per Francesco. Nel senso abbiamo studiato insieme all'Accademia, seguendo un percorso di graphic design. Quindi eravamo soprattutto nei primi anni, nei primi mesi, molto più concentrati su quello che poteva essere un lavoro che strizzava all'occhio al branding, più al lato commerciale della creazione visiva e del sì, ci stavano insegnando a creare dei prodotti da poter vendere sul mercato. Poi però penso valga lo stesso pure per Siju. C'è sempre stata l'esigenza di essere, di creare e di risultare creativi per il puro gusto di farlo, di creare, di liberare, anche di lasciarsi alle spalle un peso attraverso quello che facevamo. e quindi ci siamo buttati, abbiamo dedicato molto più tempo, almeno parlo per me, abbiamo dedicato molto più tempo a fare, a provare a impastare, a sporcarci le mani facendo... Adesso dovrebbe essere abilitata la parte staff e puoi provare a impastare. Sì, 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 sì. Si riesce a vedere? Sì. Sì. Ok, un attimo che provo a fare... ok. E quindi banalmente abbiamo iniziato a... ho iniziato personalmente a pormi la stessa sfida che avevo visto dare buoni risultati al buon vecchio Bipol. Quindi sei ispirato a lui in qualche modo? Nel senso che ho... mi son forzato, tra virgolette, a creare un'immagine ogni giorno per un determinato lasso di tempo. Poi ho dovuto mollare... non ce l'ho fatto, cioè non... Spegnativo. Non sono all'altezza di raggiungere i 12 anni, i 13 anni di fila come ha fatto Bipol. Però sì, ho visto che il trend di quel momento era quello di creare degli everyday, quindi un artwork giornaliero per il... cioè nel senso per il puro scopo di migliorarsi, di cercare un pochettino qual è la propria strada. Credo che questo sia più o meno il problema un po' di tutta la nostra generazione. Ci viene detto a destra manca che le cose non vanno bene, che non si sa cosa fare, che il mondo sta cambiando. parecchie persone si lamentano, parecchie persone non sanno che fare, i giovani non sanno che fare. Quindi questo si... si vede, suppongo, credo sia palesemente visibile anche nella... come trend generale dell'arte digitale, della nostra, della passata e della futura generazione. C'è un po' questo senso di... a volte anche di sconforto che si può vedere nelle immagini di... di molti artisti digitali, spesso e volentieri questo si traduce in una voglia di distruggere, di sovvertire le regole, di andare oltre quello che è quello che è stato anche il mondo dell'arte tradizionale. Ecco perché si vede molto spesso anche nel mondo degli NFT, si vedono molto spesso all'asta anche dei video, soprattutto dei loop, delle cose che si ripetono all'infinito e che non possono essere semplicemente tradotte e traslate nel mondo dell'arte normale. Quindi la tematica principale è anche da quello che vediamo una sorta di, insomma, umanessimo, chiamiamolo così, umanessimo digitale dove c'è sicuramente l'uomo che poi sarebbe, rappresenterebbe in qualche modo la generazione attuale, insomma, alle prese con la propria... come dicevi tu, con il proprio disagio, con la propria angoscia, con il proprio modo di esprimere lo stato d'animo del momento. Sì, nel mio caso è stato sicuramente... questo è gran parte del filone di quello che poi col tempo ho imparato a capire venisse da me. Nel senso ci ho messo anche io del tempo a capire dove volessi andare, cosa stessi dicendo, come credo sia normale per tutti. Adesso su cosa ti stai concentrando? Cioè, la tua evoluzione, cosa ti ha portato a creare? Su cosa ti stai concentrando nei tuoi lavori? Io sono da sempre affascinato dalla figura umana in generale, quindi per adesso sto continuando ad esplorare questo tipo di dialettica qua, questo tipo di linguaggio, quindi cerco per la gran parte del tempo di provare a trasmettere, a veicolare delle situazioni, delle emozioni, dei ricordi attraverso la figura umana molto spesso, anche se non nel recente tempo, cercando di eliminare quello che è il volto, cosa che fa anche Siggio, che fa anche Francesco. Vorrei chiedere al professor Perretta, Gabriele, vuoi intervenire adesso o preferisci vedere insomma le opere? No, preferisco vedere, nel senso che praticamente facciamo una riflessione generale. Ok, quindi vediamo dopo, vediamo anche le opere di Siggio e poi magari farai tu delle domande o una riflessione generale su quanto visto. Perfetto. Catello, se vuoi aggiungere qualche altra cosa? Sì, sì, sì. No, no, farei subentrare Siggio. Ok, che abbiamo sempre qui… Il computer è molto più disordinato, quindi… Non fai niente, insomma. Il computer è il nuovo specchio dell'anima. Sono molto meno ordinato. Infatti puoi farli vedere pure più grandi. Sì, 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 no, ma… Vabbè, adesso vediamo anche qualcosa tua, poi magari dopo facciamo vedere in grande qualcosa che scegliete voi. Sì, 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 infatti. Sì, insomma, magari anche mentre interviene Gabriele, il professor Perretta possono continuare a scorrere le immagini. Sì, sì, sì. Ok, perfetto. 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 No, ma a me piacerebbe sentire qualcosa praticamente sulla… Qualche riflessione tecnica vostra, cioè su quello che vediamo, no? Sono curioso praticamente di… Sulla tecnica, certo, anch'io. Ok. Su come si è arrivati a produrre certe cose. Allora, queste sono tra le immagini a cui sono più affezionato e fanno parte della serie Asimov, del progetto Asimov. Qui, per esempio, è palese che abbia spinto sul… abbia cercato in tutti i modi di giocare, di ruotare attorno allo studio delle luci. In base, più che altro, il lavoro che faccio io è sì digitale, ma è molto affine a quello che mi prevetto di dire, cioè… molto affine a quello che può essere il lavoro di un fotografo, suppongo. Nel senso do molto spazio e dedico molto tempo alla ricerca di una posa specifica degli umanoidi, droidi, come li chiamo io, perché non hanno volto, quindi non potrebbero che essere persone… entità non umane, non fisiche. Quindi, in questa serie qui c'è una costante ricerca della luce, che è più o meno il filone. Ascoltami, andiamo per dialogo anche un po', sono curioso di quello che dici, nel senso che lo trovo molto interessante, però da come lo trovo sembra che sia limitato al discorso praticamente fotografico e di plasmazione dell'immagine a partire dalla fotografia. Ma dai riferimenti e da quello praticamente che costruisci, io vedo praticamente per esempio un lavoro sul Novecento italiano, nel senso che praticamente ha dei riferimenti alla pittura del Novecentista italiano e se vuoi addirittura praticamente c'è un riferimento diretto a valori plastici proprio, proprio a De Chirico. A De Chirico. A De Chirico. A De Chirico. Vengono prodotte queste immagini, alcune lavorate al computer e altre praticamente in qualche modo direttamente poi pittoriche. Ma in questo caso invece la caratteristica interessante, molto interessante, è questa plasticità che viene resa e questa sposta ecco il discorso verso la fotografia che diceva lui. Però io lo andrei un attimo a precisare, nel senso vorrei sapere proprio nell'uso di questa plasticità non ti sembra che qui siamo di fronte a una lavorazione tecnica molto... Certosina. Certosina. Certosina e densa, ecco direi densa, molto densa, ma comunque siamo nell'ambito della grafica digitale insomma, no? Cioè nel senso siamo nell'ambito della grafica digitale, ok, benissimo, quindi questo... E io addirittura qui, nell'opera che stiamo vedendo, addirittura ritrovo una plasticità ancora più, se vogliamo, antica, ripeto Tiziano, ripratti anche le modelle, i modelli appunto, i colori... Certo, 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 sì. Che definirmi artista 3D sarebbe come pormi ad un livello di dire ok so fare video, so fare loop, so modellare, so scolpire e visto che non è il caso ci tenevo a precisare che rivedo il mio lavoro molto affine a quello che può essere quello di un fotografo. Certo, certo, certo. Un marcato senso di necessità dal mio punto di vista di ritrovare una composizione gradevole. Ma certo, certo, certo. Quindi c'è anche un lavoro molto estetico? Sì, sì, chiaro. Oltre che contenutistico? Sì, sì. Prevale più il contenuto o l'estetica? Con questo progetto qui c'è una storia dietro, nel senso che il contenuto dietro questo tipo di opere che richiamano e strizzano l'occhio ad un'arte più classica, hanno dietro una storia che io ho immaginato di un futuro, nel quale questi esseri umanoidi, questi androidi, per cui il progetto si chiama Asimov non a caso, ricreino come se fosse una sorta di messa in scena quelle che sono state le gesta, le azioni, le emozioni, gli errori che ha commesso l'essere umano in un giorno futuro, dove noi non saremmo più né su questo pianeta né su altri. Quindi immaginavo questa serie di, per così dire, droidi per l'appunto come l'ultimo vero figlio dell'umanità, rappresentati un po' da quello che è per me la tecnologia. Io credo che la tecnologia sia l'ultimo vero figlio dell'umanità, l'ultima creazione che sta iniziando a creare con l'intelligenza artificiale, anche se in modo autonomo, quindi credo che ci siano buone possibilità che la tecnologia non per forza sotto forma di androidi senza volto possa far vivere, tra virgolette, in eterno quella che è la memoria dell'essere umano e di quello che abbiamo fatto di giusto, di sbagliato e dei sentimenti che abbiamo provato in questa vita, in una sorta di commedia eterna. Eh, quindi tu addirittura racconti di un futuro prossimo. Io invece credo anche un molto presente. Speriamo non troppo prossimo. Speriamo, speriamo non troppo prossimo. Comunque io mi sposterei anche per le questioni di tempo, per dare il giusto spazio anche a Sizzu Bellettini, insomma di farci vedere qualcosa. Speriamo, va bene, va bene, individuo il mio schermo. Esattamente, ad esempio tu Francesco hai lavorato direttamente sull'arte pittorica, se non sbaglio, ecco. Sì, allora, faccio vedere questo progetto perché il mio computer è molto disordinato, quindi questa è un po' una piccola sintesi. Sì, il progetto si chiama Reborn Paintings. Sì. E un po' la mia idea qua è stata di fare una ricerca su quadri che mi colpissero particolarmente e poi sono andato a intervenire creando qualcosa di moderno, nel senso di più vicino alla nostra estetica, da questo punto di vista. E fondamentalmente, come fa anche Catello, alla fine tolgo le facce. Questo è un punto, diciamo, da cui non si prescipa. L'unica cosa, la grande differenza è che Catello non le buca, le appiattisce. Cioè, per me alla fine sono degli involucri vuoti. Cioè, io capito da questo quadro, che è un ritratto, ho creato una natura morta nella mia testa. E quindi, alla fine, l'essere umano, visto come alla fine un involucro estetico, senza contenuto. Quindi raccontimi un aspetto dei nostri tempi, fai una critica anche a questo? O almeno io ci credo questo? È possibile, è possibile. In realtà sono molto istintivo quando lavoro. Cioè, a volte cerco un senso preciso in quello che faccio e altre volte, invece, che tipo qua, per esempio, la mia idea era proprio di costruire un cyborg, no? Partendo da questo. Quindi anche questo contrasto tra i costumi, tra costumi molto pomposi, è la semplicità poi del design di questa faccia a schermo, che c'è un telecomando in mano. Questa cosa dell'affiattimento dei volti, o comunque del nascondere la fisionomia dei volti, per noi sempre un po' profani, parlo per me, che conosco poco questa community, è un tratto che contraddistingue, una casualità che contraddistingue solo te, Catello, o è un film rouge, insomma, che... No, è una cosa che tra l'altro... Più umani e artistiche. Allora, è una cosa che tra l'altro sono arrivato al punto in cui vorrei cercare di studiarla, perché si fa sicuramente da prima di Meccatello, ma tantissimi lo fanno e lo continuano a fare. E' certo. E' probabilmente ha un'origine nel dipinto del signore con la mela davanti alla faccia di Magritte, credo. Cioè, nel senso che quella immagine evocativa di qualcosa, cioè del fatto che togliere l'attenzione dalla cosa su cui tutti mettevano l'attenzione, che è il volto. Quindi, posso dire un attimo? Allora, quindi ci risiamo praticamente rispetto al confronto storico con la memoria o della metafisica o dei valori plastici oppure del surrealismo. Quindi, insomma, nel senso che in qualche modo quando abbiamo a che fare con l'immagine a tutto spiano, in qualche modo bisogna confrontarsi per forza di cose con questo universo iconico. Soltanto che qui, in questo caso qui, rispetto al lavoro di prima, ci troviamo di fronte a un discorso un po' più concettuale. Cioè, nel senso, non so quanto, da quello che dice lui, non so quanto è consapevole, no? Di questa concettualità, perché dice che è istintivo, però, insomma, invece io vedo che la trattazione è sempre il rapporto e il confronto fa analogico e questa ricerca di questa tridimensionalità, diciamo, questi sono dei cyborg in de-evoluzione, no? Cioè, mentre i suoi sono in evoluzione, quelli di Catello, questi sono in de-evoluzione. Insomma, siamo lì e siamo sempre all'interno, diciamo, di questa ricerca della grafica digitale, no? E secondo me, secondo me, insomma, questo è interessante, no? In questo caso, con questa utilizzazione di un po' di armamentario retorico della pittura, no? Cioè, l'utilizzazione di questo armamentario retorico della pittura è di spostarlo un attimo, no? Di deviarlo, insomma, di deviarlo e di capovolgerlo, non di capovolgerlo come facevano i dadaisti, ma di capovolgerlo all'interno dell'immagine stessa, insomma. All'interno dell'estetica, direi. E' un contro, è un contro, è un contro in natura, ma sempre lì siamo, però, eh? Ok. No, piuttosto, io stavo notando anche, non so se siete d'accordo anche voi, magari, insomma, anche Anna Chiara, se la pensa come me, o lo stesso Gabriele con il quale spesso mi sono confrontata, c'è una critica anche sociologica, cioè, qua parliamo di sociologia vera e propria, no? Se ci spostiamo un attimo sulle tematiche, perché... Io penso anche, soprattutto, dal momento che, adesso, Francesco parlava di cittadino, c'è proprio l'istintualità nel produrre, si vede appunto questa critica istintiva che viene spontanea, appunto, nel suo produrre, verso la società attuale, il difescare modelli passati per poi, appunto, istintivamente attaccare quei tre tempi, quindi, chiaramente, c'è una critica, magari, appunto, lui istintiva, perché lo fa di zetto, lo fa con un spirito diverso e utilizza questa sua tecnica digitale che gli è propria, perché è nato in un'epoca digitale, però è chiaramente un istinto di critica nei confronti di quello che si vive attualmente. Io trovo il lavoro di Siggio Bellettini e di Francesco anche profondamente ironico, non so voi, vedo dell'ironia anche. No, lo so, per esempio, questo qua è più pensato, l'ultimo che... Braffa, puntacelo. No, sto condividendolo. Sì, sì, sì. No, vabbè, questo qua l'ho chiamato La Grande Bolla, che è un po' un gioco con La Grande Onda, il quadro giapponese. è The Great Bubble. E la grande bolla, un po' potrebbe essere la criptoarte, potrebbero essere le criptovalute, no? Che questo gioco con... È la cosa che mi fa ridere il fatto... È la grande bolla speculativa. E il fatto che mi diverte è che lui non ha la testa, però la testa è riflessa all'interno della bolla. Certo. Sì, sì, infatti sì. Sì, sì, ok, benissimo. Ma io su tutto questo sono d'accordo, ma la domanda praticamente che mi faccio, e vi faccio, qui siamo all'interno di una storia dell'iconografia, della storia dell'immagine, no? Ok, benissimo. fatta con delle tecniche praticamente che abbiamo detto, vedi sopra, abbiamo detto prima. Ok, ma in questo caso, o nel caso praticamente proprio specifico, anche tecnico, come si fa a pensare e a pensare e a visualizzare questa trasformazione... l'ultima parte della domanda... Cioè, come si fa... Puoi disattivare il microfono perché c'è il ritorno. Allora, dicevo, come si fa praticamente a trasformare questo discorso da immagine effettivamente a visualizzazione della moneta, cioè nel senso che questa rimane un'immagine, no? Sì, sì, chiaro. Ok, quindi praticamente, voglio dire, la bolla di cui stiamo discutendo in questo periodo a livello internazionale è una bolla che si concentra sulla finanza, sulla moneta. Allora, mi chiedo, ma sull'immagine quando si concentrerà? Capito? Capito, cioè questo è il problema. Cioè, secondo me, evidentemente, questi qui che vogliono speculare sono anche molto distanti dal discorso praticamente proprio iconografico. Invece noi abbiamo bisogno anche di un approfondimento di questo. E mi sembra che voi siete in questa direzione, lo fate. Ma allora perché alla fine si parla più di moneta e si parla di meno di arte? Non credo si parli di moneta e meno di arte, diciamo che comunque la nostra generazione forse è più abituata a scherzare delle cose. No non lo so guarda, allora quello che dici scusami no rispondo a questa cosa perché è molto provocatoria, se la tua generazione allora a questo punto è abituata a scherzare della cosa allora la mia praticamente che è quella punk è abituata a scassare addirittura, che cosa vuol dire? Ma non c'entra, voglio dire che c'entra, cioè non è questo il problema, il problema non è generazionale, il problema è che se lo poniamo soggettivamente noi dobbiamo parlare anche della singola esperienza artistica e biografica. Tu sei una biografia, no? Ok, adesso ho visto questa cosa, è molto potente, è potente questa immagine qui, no? Che stiamo vedendo. Ok, è interessante, no? Allora discutiamo un attimo anche di questo, ma sentiamo... Francesco tu hai di un altro parere però, quello che penso, quello che penso riguardo a questa cosa, se ho capito qual è la direzione del discorso, è che effettivamente l'attenzione in generale sulla criptoarte è principalmente economica in questo momento, nel senso che si vende a un sacco di milioni, quello fa un sacco di soldi, quanti si utilizzano nella criptoarte, che secondo me è molto meno interessante di tutto quello che è successo da 4-5 anni. Ma infatti sono i media che fanno questo discorso, la gente che c'è dentro fa questo discorso fino a un certo punto, ti interessa? No, 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 ascolta, non sono i media perché i media sono l'opera stessa, tu stai facendo un'opera che è solo i media, tu sei dentro i media, noi tutti siamo dentro i media, non è che siamo fuori, quindi non è possibile questa cosa qui, cioè nel senso che fra... Fra i media e questo discorso c'è congiunzione, coniugazione, è la stessa cosa. Dove sia il problema e la dialettica della moneta che sovrasta quella dell'opera? L'opera in questo caso è costruita e si avvale di un sistema economico per potersi diffondere e per permettere di poter trarre guadagno a chi l'ha fatta, ma è un sistema che cambia soltanto tipo di moneta per l'appunto. Sì però, scusami se ti interrompo, però per cercare anche di stendizzare i vari pensieri, la discussione verte su un altro tipo di quesito, quello che dici tu è giusto, è ovvio che un'opera d'arte abbia anche un valore economico che venga venduta eccetera eccetera, però la domanda che ci stavamo ponendo e che vi stavamo ponendo è la seguente. Sui giornali, tre settimane fa, la cosa che ha creato Scalpone non è stata tanto l'opera in sé di Bipo, quando il fatto che è stata un'opera venduta in criptovalute, quindi l'importanza si è data a quella cosa lì. Invece dovremmo ricordarci che... Ma io non credo sia una prerogativa e un attributo soltanto di quello che sta succedendo adesso sull'arte digitale e della criptoarte. Questo è giusto, questo lo dici tu. È sempre stato così. È sempre stato così, ma è uscito sui giornali, cioè insomma è uscito fuori, quando dico giornali, insomma in maniera diretta... Perché fa scalpore, perché dà fastidio, ma non credo che gli artisti che stanno in alto nelle classifiche della musica, i film più venduti, non credo se ne parli così tanto, semplicemente perché siamo abituati a quel sistema lì. Sicuramente, però... Adesso fa più scalpore. Non ci dimentichiamo che noi parliamo di opere d'arte, non di prodotti, insomma... Dobbiamo tutelare anche quelle. E rispetto all'opera di Bipol era pure complesso parlarne dal punto di vista artistico, perché sono 5.000 opere e non riesci manca a vedere una singola opera all'interno dell'immagine. Il contenuto artistico dell'opera di Bipol è Bipol stesso. Se l'interesse avvicinata sulle valute, perché adesso anche nel momento in cui una casa d'arte talmente importante vende un'opera dirigente, l'attenzione finanziaria di spostarsi verso una moneta diversa, è un interesse alto e quindi vi subentra l'attenzione immediatica sulla valuta perché c'è un interesse proprio della finanza a spostare degli investimenti anche dei collezionisti. Quindi per quello fa più scalpore. Magari non si è indagato prima invece l'aspetto puramente estetico, iconografico delle opere degli attristi, perché si vuole porre maggiore attenzione all'aspetto monetario, perché gli interessi finanziari si stanno dirigendo anche sotto quel tipo di investimenti. Sì, chiaro, ma credo semplicemente perché è una cosa nuova, è una cosa che le persone non tutti conoscono, che anche noi stiamo avendo modo di capire man mano. Credo che poi una volta quando si calmino le acque, credo che come sempre prevalga quello che la gente è capace o riesce a vedere all'interno di quello che sta vedendo all'interno dell'opera. Ovvio che se domani esce una nuova moneta con la quale si vende all'asta un quadro importantissimo, ovvio che le persone parlino di quello. Ma non ci vedo, cioè, non capisco dove stia. Posso dire una cosa, poi ti faccio intervenire, Francesco? Ok, intervieni, dai. No, dico, quello che penso io è che effettivamente c'è un discorso legato a comunque una non attenzione da parte in generale del mondo dell'arte verso quello che facciamo noi fondamentalmente. Appunto, sì, è una non attenzione da parte del mondo dell'arte. Cioè, per esempio, secondo me le cose fatte in 3D non sono viste di buon occhio in generale nel mondo dell'arte. Esatto, sono d'accordissimo. Cioè, non stanno nelle grandi gallerie, è una serie di parti. È una mancanza da parte forse del mondo dell'arte. Io penso che Cristis la fa l'asta perché si deve fare i soldi, non è che Cristis dice che è bello people, anzi, in realtà Cristis ha messo tutte le opere insieme proprio perché non voleva far vedere una singola opera. Cristis è il mondo dell'arte, non è il mondo della criptoarte. Allora, Cristis è un aspetto, un attimo solo, Cristis, esatto, è un aspetto del mondo dell'arte. Mi fa piacere, insomma, anche questo scambio tra di voi, questa naturalezza con la quale stiamo tutti intervenendo. Il problema non è questo perché come ci potrebbe dire dopo il professore Gabriele Perretta, l'arte digitale è entrata nelle gallerie, c'è stata, insomma, è stata nei festival, anche recentemente, con quest'estate ad esempio a Corciano. Poi ce ne parlerà il protagonista, insomma, il curatore che è appunto il professore Perretta. Il discorso nostro è un altro, ragazzi. Se vi abbiamo voluto far presentare in qualche modo le vostre opere è proprio per addentrarci nel vostro mondo. E noi nel vostro mondo abbiamo visto, almeno io parlo per me, poi Anna Chiara dirà la sua e Gabriele lo stesso, io ci ho visto molto più di una criptovaluta o della storiella raccontata sul giornale due settimane fa. Ci sono delle temate che vanno approfondite assolutamente. Ci sono dei lavori, insomma, che sono parecchio interessanti e i nostri occhi non hanno pregiudizi, noi stiamo cercando una nuova maniera per andare, insomma, in qualche modo in un'altra direzione. Però dobbiamo, secondo me, partire da dei presupposti un po' che si allontanino dal noi non stiamo nel sistema perché il sistema è Cristis, perché è così. Non è così. Anche perché è sempre stata la critica di tutto il nuovo, è sempre stato quello. Io non rientro nel sistema perché non c'è attenzione, perché il sistema non pone attenzione. È chiaro che il sistema adesso si è un attimo interessato anche per la questione monetaria, perché è importante tenerne conto. Però proprio perché noi, diciamo, non possiamo parlare solo definitivamente di tutto valuto, noi vediamo altro anche in quello che fate voi. Però ovviamente la community è fatta, quindi non è che il lavoro di tutti quanti può essere uguale e può essere considerato allo stesso modo. Quindi bisognerebbe poi interessarsi degli artisti in maniera diversa. Voi avete magari una potenza di immagini diversa e altri no, cioè adesso è appunto tutto nuovo e se ne parla, se ne parla tanto e bisogna anche salmare le acque giustamente e capire poi dopo quanto resterà. E quindi chi resta poi avrà un valore aggiunto. Come è sempre successo nel mondo dell'arte, voglio dire. Infatti sì. Adesso sembra più il Far West che una galleria d'arte, diciamo. Per questo adesso è l'attenzione generale. Ma l'attenzione generale, io ci tengo a precisare, dall'esterno della community è volta a puntare il dito sulla criptovaluta. Non dall'interno della community. Sì, sì, questo è stato chiaro. No, no, questo è stato molto chiaro. Perciò non capisco dove è la questione di... No, perché? Noi non abbiamo mai parlato di cripto, cioè io non ho mai posto l'attenzione sulla questione cripto. No, noi l'abbiamo posta la volta scorsa ed sembrava che fosse fuoriuscito solo questo. Allora ci interessava invece andare a vedere realmente alcune opere. Francesco, se non sbaglio, già settimana scorsa dicevi... Come? Cioè, no, secondo me la cosa interessante è il tipo di tecnologia legata a queste criptovalute. Perché è una tecnologia che ha intrinsecamente un valore politico. Esatto, sì. E il valore politico è che, per esempio, il portafoglio non è nominativo. Quindi non è sotto nessuna giurisdizione tassativa. E che non è centralizzata e controllata da nessuna banca. Gli stati non esistono più all'interno di questo... Finché resti all'interno del circuito. Ovviamente, nel momento in cui io questi soldi me li faccio mandare con un bonifico sul mio conto corrente, poi devo pagare le mie tasse nel mio stato. Però finché resto all'interno di questo circuito, questo circuito non ha nazioni e non ha confini. Sì, ma torniamo un attimo a parlare... Sì, questo sicuramente... Non c'è un legame diretto con l'arte di questa cosa. Però c'è un legame legato a un modo di approcciare al mondo e alle cose, che è tipico di internet, che è tipico di quello che viviamo, di dove impariamo, di dove lavoriamo. C'è, non so come dire, c'è il mondo in cui questo mondo virtuale che abbiamo costruito, lo stiamo costruendo anche con delle regole. Quindi avete anche delle regole, c'è un movimento vero e proprio questa community. E poi fare intervenire... Non ho scritto io le regole delle criptovalute, però tutte le criptovalute sono anonime, per esempio. E sono decentralizzate, non esiste una banca centrale delle criptovalute. Ok, ma voi in tutta questa storia ci siete entrati dopo? No, ma sono anonime, scusami, ancora una domanda. Sono anonime e che fine fanno, praticamente? Spiega un attimo. Che fine fanno poi queste criptovalute? Ogni port wallet, te lo sa meglio di me, però ogni wallet è collegato semplicemente a una password, di una serie di parole, una sequenza di parole. Questa sequenza di parole è l'unico accesso che hai a questo portavolo. Ok, ok. E chi può accedere a questo accumulo economico? Chi può accedere? Solo chi ha fisicamente queste parole. Ok, 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 e quindi io pure lo so, però sto cercando di fartelo spiegare per capire, per analizzare. Allora voglio dire, tutto questo nel momento in cui praticamente viene accumulato, non è lo stesso processo di accumulazione delle altre forme economiche. Non capisco qual è la differenza. E qual è la novità? Qual è la novità di questa cosa? Che tu dici praticamente è interessante perché è un accesso anonimo e per tutti. no, è privilegiato un'economia al posto che un'altra, no? Nel senso permette di pubblicare e di mettere all'asta lavori di chiunque voglia. che non è la stessa cosa di presentarsi nell'arte digitale e bussare alla porta di una galleria. Certo, vabbè, certamente, certamente. Vabbè, eravamo in un'altra fase però quella lì, quando si faceva questo. Allora le cose storicamente poi cambiano, ma adesso, cioè secondo me non si tratta di criticare le fasi precedenti. Si tratta di capire piuttosto questa fase qui, voi dite che porta beneficio a tanti. Ma vogliamo vedere in che modo porta beneficio a tanti? Cioè, capiamo un attimo. Io è questo che non ho capito ancora. Cioè, non capisco qual è il beneficio che porta a tanti, sinceramente. E ciò delle pericolità riguardo. Nel piccolo, nel piccolo, io ho visto, cioè, nella, una buona percentuale dei, 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 dei giovani, dei giovanissimi che fanno parte di questa community che ho visto avere successo nell'ultimo periodo, hanno estinto i debiti con la scuola in America, dove il debito scolastico è forte, hanno lasciato un lavoro da studio che li faceva soffrire. sta letteralmente cambiando attraverso sempre un discorso economico e quindi un tornaconto dal punto di vista puramente speculativo sta cambiando la vita di migliaia di ragazzi, di giovani, giovanissimi, ma anche di persone in generale. Non centinaia, migliaia dici tu addirittura. Migliaia, sì, 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 perché, perché semplicemente c'è la possibilità di avvalersi di un sistema più democratico, a mio modo di vedere, perché permette semplicemente a chiunque sappia usare un computer, di creare un wallet, iscriversi a un sito e pubblicare le sue cose e metterle quindi a disponibilità di chiunque, qualsivoglia collezionista, le voglia, le voglia e possa comprare. Chiedo scusa, mi intervengo un attimo perché mancano sei minuti ed è divertente come siamo, insomma, con cui siamo per gettare le conclusioni, siamo arrivati allo stesso punto dell'altra volta, cioè della democratizzazione, del far scomparire in qualche modo le figure di riferimento con il discorso, insomma, mi divertiva in qualche modo il fatto che la conclusione fosse poi alla fine la stessa. Eh certo, sì. Chiederei veramente un minuto ciascuno, insomma, una riflessione di chiusura. Prego, prego. No. Grazie. Dovete, insomma, decidete voi come vogliamo in qualche modo. No, allora io... Vai Francesco. No, io penso che, sottolineo questa cosa che penso, che fondamentalmente è molto più interessante il linguaggio estetico e i contenuti di quello che sta succedendo, molto di più del discorso della criptovaluta in sé. E questo lo penso e lo pensavo da prima ancora. Io sono completamente d'accordo con te, quindi ho già detto la mia riflessione. Perché c'è tutto un nuovo modo di approcciare le cose, però ovviamente è più semplice parlare di... A parte che è anche molto più nel trend del momento... Fa più notizia parlare di soldi che parlare di arte. E quello è il fatto anche, tra virgolette, grave, che fa più notizia parlare di soldi. Appunto, sì. Dobbiamo concentrare sul linguaggio artistico vostro. Però è chiaro che bisogna indagare il beneficio di questa nuova realtà monetaria, se sono benefici, se si possono essere altri di quello che... È chiaro, è chiaro. È un sistema monetario che crea... No, no, ma questo è importante perché da parte degli artisti, se ci sono persone che hanno sempre pubblicato sui social e l'arte digitale, esiste anche da prima che si fosse creato l'opportunità di venderlo attraverso le criptovalute. Significa che da parte della comunità digitale l'intenzione di parlare d'arte e non parlare di denaro c'è sempre stata, altrimenti sarebbero nati gli artisti digitali il giorno successivo all'invenzione degli NFT. Noi invece abbiamo sempre pubblicato, abbiamo sempre costruito, per il piacere di fare. Chiederei a Gabriele per retta due minuti di confusione e poi ci salutiamo. Sì, insomma, rapidamente, visto che insomma in qualche modo sono stato io il provocatore di questa suddivisione, adesso a questo punto chiudo riunendo. Allora... C'è qualcuno che deve chiudere. Allora, il discorso è fra capitale e linguaggio, come al solito. Ok, e io chiaramente non posso che essere d'accordo sulla questione del linguaggio al posto del capitale, però insomma in qualche modo bisogna riconoscere anche questo, che in questo caso, in questo fenomeno qui, come i tanti altri, capitale e linguaggio stanno insieme e molto spesso sono mimetici e si confondono. È questo che abbiamo appreso oggi. Ancora una volta sono mimetici, quindi è difficile distinguerli. Cioè, nel senso che il capitale soffre di un mimetismo linguistico che non ha, ma che deve assicurare, ma che deve assicurare, ma che deve assicurare, ma che deve fare altrettanto, no? Deve fare altrettanto e quindi praticamente è una continua lotta, è un continuo conflitto fra capitale e linguaggio e sono questi elementi oggettivi che concludono da soli. Purtroppo praticamente il soggetto in questo caso sta così nell'aria. È la natura speculativa dell'essere umano, ahimè, purtroppo. Eh, insomma, sì, ti ammiro molto, sei un utopino. Eh, bene. Catello, scusami, si possono fare la domanda, questa domanda agli uomini si può fare, per me anche alle donne, però, insomma, quanti anni hai? 29. Eh, insomma, hai già molte risposte, insomma, ti invidio, ti apprezzo di stima e ti invidio moltissimo. Va bene, allora, vi ringraziamo veramente tanto. Grazie a voi, ciao, ciao, arrivederci, ciao. Anna Chiara, vuoi dire tu qualche battuta in conclusione? Si sente niente. Esatto, si sente pochissimo, allora, insomma, faccio io da portavoce perché appunto non si sente nulla. Per noi è stato molto importante, anche per il tipo di ricerca che stiamo facendo, e vi annunciamo già che ci confronteremo sicuramente anche con artisti di arte digitale che però, insomma, hanno cominciato ad operare qualche anno fa, in modo tale da poter avere tutto il quadro in qualche modo chiaro davanti a noi. Io ringrazio di nuovo il professore Gabriele Perretta, Catello e Sigiu Bellettini. Magari, chissà, riusciremo in un terzo incontro più in là, adesso stiamo terminando, insomma, questa serie di chiacchierate, quindi... Ok. Grazie, arrivederci, ciao, ciao. Ciao a tutti. Arrivederci.